un attimo solo un attimo solo eccomi qua mamma quanto pesano sti cosi che si deve fare per campare allora pannelli acustici come al solito qualcuno noi li abbiamo fatti in mdf li abbiamo fatti bassi li abbiamo fatti alti li abbiamo fatti in polistrutturato e c'è qualcuno che ci ha detto ma in legno anche io ho diritto un pannello acustico in legno però non lo voglio bianco lo voglio in legno e l'abbiamo fatto in legno pannello acustico con fondo in pet di notevole spessore consideriamo che i pannelli acustici questi che vediamo qua sono da 22 mm di spessore sono rivestiti in vero legno abbiamo scelto tre essenze una è un rovere termotrattato quindi un po più scuro bellissimo il termotrattato di rovere è una cosa fantastica poi abbiamo il noce americano il walnut che lo vediamo un po più chiaro perché ha una finitura effetto touch molto naturale e quindi non sono quei prodotti laccati brutti che di solito troviamo in commercio no ha una finitura come se fosse grezzo bellissimo e poi abbiamo il rovere naturale classico golden hook che in questo caso proprio tanto golden non è nel senso che anche questo prodotto qua ha una finitura che è un po come l'olio solo che lo rende davvero simile al grezzo con quel tocco di mielato che non dispiace nemmeno un po è un rovere chiaro molto molto bello vi arriveranno a casa nella nel loro pack nel loro cartone quindi abbiamo la tutta la sicurezza del trasporto quella che è la sicurezza del del trasporto di questi prodotti legno fsc 2 metri e 60 d'altezza 52 centimetri di larghezza 22 millimetri di spessore ok come vi dicevo prima sotto il pannello sotto è un ma è il classico filtro è un pet ad altissime prestazioni acustiche sarete isolati come foste in una sala di registrazione e quindi niente rumori esterni pace e tranquillità in casa i lamelli i lamelli sono in una fibra di legno rivestita in legno in legno naturale la bellezza di questi pannelli è impressionante poi li vedrete sul nostro sito quindi vi renderete conto abbiamo delle immagini ad altissima risoluzione il prezzo anche in questo caso ho fatto dei miracoli e quindi mi rendo conto che sono bravo in queste cose qua abbiamo il prezzo più basso in assoluto sul mercato si li troverete perché tanto ormai è la moda crescono come le cavallette se questi pannelli in lamelli ma è il prezzo più basso in assoluto che troverete sul mercato ve lo garantisco io nel caso non fosse così mi contattate mi dite guarda l'ho trovato ad un prezzo più basso vi faccio uno sconto esagerato ok ma sono sicuro che questo è impossibile al pari di questa qualità dimenticavo in ogni pacco c'è il suo bel fogliettino di istruzioni in ogni scatola può montarlo chiunque il papà la mamma la domenica mattina tra una faccenda e l'altra con il nostro silicone apposta per questi pannelli lo trovate sul nostro sito vi ricordo ancora www.ethernalparquet.com andate a vedere il prezzo e fatemi sapere quando io prometto mantengo ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti